Sicuramente quello che avevo detto in settimana si è avverato quest'oggi, ho potuto dare il mio contributo alla squadra, sono contento per me, sono contento per la squadra, soprattutto per poter affrontare la settimana importante che viene perché abbiamo il derby, poi il Napoli con il piglio giusto e arrivare con la giusta forza e carica. Penso che quello scatto e anche la cattiveria che metto io ma che mette anche Murgia a noi giovani sia data anche da un po' di fame calcistica se si può dire perché comunque sia noi veniamo dal niente, dal settore giovanile quindi non abbiamo ancora esperienza, non abbiamo passato e dobbiamo solo che dimostrare, soprattutto io che in questi anni sono stato in categorie minori e ogni volta che entro per me so che potrebbe essere un'occasione speciale e voglio far credere tutti quelli che ancora dubitano di noi giovani che possiamo stare in una categoria del genere. Devo dire che sta diventando una mia qualità quella di chiudere l'azione mentre si svolge all'altra parte perché sono più un esterno che finalizza piuttosto che inventa. Erano 3-4 secondi che chiedevo palla a Keita perché vedevo che c'era spazio di secondo palo, dopo un cross mezz'ora impallato è arrivata questa palla, il primo stop l'ho fatto verso destra, poi ho fatto la mia giocata a mettere un tiro cross più forte possibile in mezzo e è andata bene. Io personalmente preferisco guardare prima chi ci rincorre perché dobbiamo mettere un gap tra noi e loro perché stiamo facendo meglio, stiamo facendo una stagione in cui in un modo o in un altro portiamo a casa i tre punti su campi difficili, su partite che magari ci danno per spacciati, noi riusciamo a ribaltare sempre le situazioni. Meritiamo questo quarto posto, dobbiamo tenerlo con i denti e sicuramente possiamo guardare più avanti ma la cosa primaria è cercare di mettere un gap tra noi e le inseguitrici. No, non è la prima volta che mi capita, io nel mio esordio dei professionisti mi era capitata una cosa simile che tiravo un mezz'ora in palla e hanno dato autogol, con il crotone me l'annullano ingiustamente, stasera danno autogol a Cerbi va bene uguale, l'importante era la vittoria, so di aver dato il mio contributo mi sta bene uguale.